Ieri, durante una puntata in diretta del popolare show mattutino che alterna comicità, attualità e intrattenimento per le famiglie, si è verificato un inaspettato scontro tra i conduttori, che ha provocato un finale davvero esplosivo. Stiamo parlando del famoso Tiberio Timperi e del pungente Gianni Ippoliti, che hanno dato spettacolo con una discussione in diretta. Il tutto è iniziato con un'espressione di fastidio da parte di Timperi, mentre il suo collega stava svolgendo la sua rassegna stampa. I telespettatori sono stati testimoni di uno scambio decisamente aspro tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti. Un siparietto che ha causato non poco scompiglio nel programma, e ha richiesto un salvataggio improvvisato da parte della regia. Quindi, che cos'è successo esattamente tra il presentatore di Rai 1 e il satirico commentatore dello stesso programma? Ippoliti stesso ha deciso di mettere in chiaro la situazione in un'intervista immediatamente dopo l'alterco. Scopriamo cosa ha rivelato. Analizziamo cosa è successo e quali sono state le parole incandescenti. Nel tentativo di alleggerire la situazione, Ippoliti ha provato a fare un massaggio alle spalle di Timperi, dicendo, ti faccio un bel massaggio e tu mi dici quale è il problema. Altrimenti finisce qua. Ma oh, questa mossa non è stata apprezzata. Con un'espressione fredda come il ghiaccio, Tiberio Timperi ha risposto, ma non ci penso nemmeno, per me può finire qui. Boom! A seguito della reazione di Timperi, Gianni Ippoliti ha chiuso bruscamente la sua rassegna stampa, e ha lasciato lo studio in diretta, creando un'atmosfera tesa. Quando il conduttore ha chiesto e adesso che facciamo? Gianni ha risposto, tagliente come un rasoio, continuate a sbuffare. Poi, senza un altro indugio, ha lasciato il set in diretta. Insomma, un'intensa tempesta esplosa nel sereno di uno mattina.